Dopo anni difficili e precari anche che hanno riguardato la polizia locale, oggi possiamo dare buone notizie, sindaco, qual è la situazione? Dopo appunto una situazione molto difficile e precaria per un po' di tempo, oggi finalmente possiamo contare su un rapporto tra il numero di dipendenti, di agenti di polizia municipale e il numero di abitanti mai avuto nella storia del comune di Cartoceto. Attrezzature e strumentazioni sicuramente importanti, siamo oggi ad oltre 20 telecamere implementate sul territorio, tre sistemi di lettura a targhe, un etilometro e a breve anche un telelaser. Questa cosa tra l'altro ci consentirà sia di garantire pattuglie durante tutto l'arco dell'anno, sia di estendere l'arco temporale nel quale garantire anche il cosiddetto servizio notturno che invece difficilmente ad oggi poteva essere garantito e soprattutto a proposito del servizio notturno aumentarne anche la frequenza settimanale. Può essere considerato un punto di arrivo o un punto di partenza? Assolutamente un punto di partenza come dicevo prima perché sono stati insomma mesi di impegno in termini di energie, in termini di risorse finanziarie sicuramente molto molto importante e sono sicuro che da gennaio 2024 con quella che appunto la dotazione che poco fa descrivevo tra personale, strumentazioni, attrezzature e autoveicoli metteremo appunto in condizione il servizio di polizia locale di svolgere adeguatamente il proprio lavoro ma soprattutto, e questo era l'obiettivo vero dell'amministrazione comunale, aumentare il grado di sicurezza e di prevenzione sul territorio e dunque anche la percezione in questo senso da parte dei cittadini. Telecamere sono centralizzate? Ad oggi quel tipo di investimento appunto che ci ha consentito di collegare ogni dispositivo di videocontrollo così come di lettura targhe alla sede della Polizia Municipale, quindi questo vuol dire ovviamente connettività, vuol dire tutta una serie di dispositivi in grado di far funzionare in tal senso le telecamere, però hanno un po' aperto, e su questo devo dire che insomma siamo stati anche abbastanza lungimiranti, la strada che oggi invece ha trovato attuazione con la firma del protocollo per l'attuazione del cosiddetto patto per la sicurezza urbana in prefettura che di fatto genera questo tipo di opportunità per gli enti locali di mettere in rete tutti i sistemi dispositivi di telecontrollo installati nel proprio comune in un'unica piattaforma provinciale dove non soltanto gli enti potranno appunto caricare e mettere in rete i propri dispositivi, lo potranno fare in futuro anche le attività private, anche i cittadini privati e soprattutto questo consentirà anche di avere una fotografia, una mappatura provinciale di tutte quelle che sono le aree sia coperte sia quelle ovviamente scoperte dai sistemi di videocontrollo e quindi dunque lavorare anche per continuare ad intercettare nuovi finanziamenti per implementare ulteriormente questi sistemi in rete di videocontrollo di tutto il territorio provinciale.